Ci sarebbero decine di docenti in ruolo nelle scuole italiane, molti dei quali assegnati al sostegno, iscritti nelle graduatorie grazie a diplomi contraffatti e che dunque non hanno i titoli per esercitare l'insegnamento. E' quanto emerge dall'inchiesta della Procura di Cosenza, coordinata da Mario Spagnolo e dal PM Giuseppe Cava e condotta con l'ausilio dei carabinieri. 33 persone hanno ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini, sono ritenuti responsabili di falsità ideologica e falsità materiali in atto pubblico. L'articolata attività investigativa avviata nell'ottobre del 2016 avrebbe accertato l'esistenza di un sistema di falsificazione di diplomi apparentemente rilasciati da istituti magistrali statali e paritari della provincia di Cosenza o da scuole di specializzazione per l'insegnamento di sostegno ad alunni portatori di handicap. In particolare i titoli specialisti risulterebbero rilasciati dall'Istituto Nazionale Scuole e Corsi Professionali di Cosenza in una data successiva alla cessazione dell'attività dell'istituto stesso. Un lavoro complicato portato avanti dai carabinieri della compagnia di Cosenza che partiva dalla constatazione di un'anomalia, cioè la utilizzazione per l'assunzione ovvero per l'inserimento nelle graduatorie dell'insegnamento da parte di alcuni docenti di certificati riferibili ad un istituto parificato che aveva cessato di esistere già da parecchio tempo. I diplomi magistrali contraffatti risulterebbero intestati all'Istituto Statale di Belvedere Marittimo e all'Istituto Paritario Potestio di Castrovillavi. In seguito all'attività dei carabinieri alcuni dirigenti scolastici hanno adottato provvedimenti di sospensione nei confronti degli insegnanti coinvolti. L'indagine ha verificato che si tratta di un fenomeno diffuso a macchiodorio sul territorio nazionale, siamo partiti da Cosenza ma siamo un po' in giro in tutta Italia. Sono certo che il secondo step andrà a evidenziare l'eventuale esistenza di una struttura unica che procedeva alle falsificazioni.